ariete venere torna nel vostro segno e riporta l'orizzonte e la sfera sentimentale accrescendo nell'importanza e procurando un benessere personale gradatamente in aumento toro periodo stabile che non vede grandi novità ma che può essere vissuto in armonia e con un buon tono vitale ed equilibrio psicofisico complice il favore del sole in transito nel segno gemelli giornata dai connotati brillanti un cielo astrale in crescente positività consente di ampliare il raggio d'azione di potenziare i vostri obiettivi e realizzarli con più facilità cancro momento controverso e instabile avvertite l'esigenza di modificare qualcosa in ambito sentimentale oppure lavorativo ma centrare le soluzioni giuste adesso non è semplice leone si rafforza il favore del vostro quadro astrale che intensifica le conferme e le opportunità da cogliere al volo per consolidare la vostra posizione inoltre torna ad affacciarsi la passione amorosa vergine oggi prevale la tendenza alle sensazioni acute e un po aspre siete irritabili e non riuscite a vedere il lato positivo delle cose è in voi stessi che dovete ricercare motivazioni e forza bilancia potrebbe riaffacciarsi qualche tensione nella sfera degli affetti nei rapporti di coppia con venere che si ripropone in aspetto di opposizione non forzate le situazioni scorpione il quadro astrale è piuttosto statico dovete subire l'opposizione del sole che può fiaccare il tono vitale e rendervi meno motivati nelle vostre scelte lasciate che tutto scorra sagittario la giornata presenta un andamento sottotono luna e marte nemici vi fanno percepire le situazioni in modo irritante acuto provocando un po di malumore e qualche dissapore capricorno dovete fare i conti con alcune configurazioni astrali dissonanti che possono creare qualche disagio incomprensioni in amore un accumulo di stress che può risultare faticoso acquario periodo intenso e positivo carico di soddisfazioni sentimentali di novità e voglia di progettare nuove attività di curiosità nonostante faccia capolino ogni tanto un po di stanchezza fisica pesci giornata disturbata da percezioni emotive inquiete forse legate ad alcuni sogni che si scontrano con una realtà più dura ma avete buone carte per recuperare l'ottimismo buone stelle